Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco di BATS Trading, il trading scrocchiarello come noi, non lo so, devo inventare un motto. Comunque, oggi voglio parlarvi di come stanno andando i 6 sistemi messi a disposizione gratuitamente nel corso Trading Scrocchiarello per Principianti, perché sono stato fermo un paio di settimane a riflettere sui monti e a mangiare soprattutto moltissimo formaggio, e la gente mi ha scritto ma in questo agosto un po' strano, come stanno andando i tuoi sistemi? E io ovviamente rispondo. I 6 sistemi messi a disposizione sono messi a disposizione non così, a caso, c'è un pensiero dietro. Intanto non sono messi a disposizione così, a codice aperto, giusto per, e poi te li spiego. No, no, sono fatti passo dopo passo, no? Secondo il metodo che poi è il metodo scrocchiarello, partendo dal principio, cioè da zero. Foglio bianco, devo capire cosa fare, devo capire come farlo e poi devo farlo, quindi sono pensati anche per questo scopo. Il secondo scopo poi è di costruire un nucleo di sistemi che possano creare un portafoglio già buono per poter affrontare i mercati. Sono 6, su 6 strumenti diversi, molti di questi strumenti hanno anche i corrispettivi micro e mini, quindi permettono già di affrontare il mercato con i capitali minimi che io solitamente richiedo, cioè almeno 10.000 dollari per fare trading sistematico in modo decente, quindi è tutto un pensiero anche relativo alla diversificazione, relativo ad affrontare tutte le varie fasi di mercato. I 6 sistemi messi a disposizione sono questi qua. Abbiamo un sistema, spostiamo tutto di qua, grazie regia, grazie mamma mia che strumenti tecnologici. Abbiamo un sistema breakout intraday sul crude oil, quindi sta dentro pochissimo, forse due o tre ore di media, segue e segue una logica molto specifica, ovviamente non ve lo sto a dire qua gratis perché sennò sarei scemotto, diciamo scemotto. Poi abbiamo il sistema reversal sul Nasdaq, sempre intraday, sempre intraday, proprio per sfruttare un tipo di discorso che succede, che avviene nei prezzi in poche ore. Poi abbiamo il bias su euro, cos'è il bias? Non lo voglio approfondire adesso perché, diciamo, è un discorso un pochino evoluto rispetto alle basi del metodo scocchiarello. Abbiamo un reversal overnight sull'SP500 classico, l'SP500 scende leggermente, noi compriamo, e noi compriamo, e noi compriamo, in modo molto semplice, questo è uno dei sistemi più semplici che ci sono. Poi c'è il breakout overnight del crude oil, che forse in realtà è questo sistema più semplice che ci sia, perché forse se mi spingo in là sono sei righe. Sei righe di codice, molto molto semplici. E poi c'è l'intermarket con il sistema nascosto, di cui non vi dovrei parlare, quindi i sistemi sono sette, ma io vi dico che sono sei, così siete felici. Sulle carni, questo è l'unico future che non presenta il micro o il mini, quindi richiede già un attimino più di capitale per essere tradato, ma è ottimo, è un sistema iper semplice che funziona accoppiando i feature. Ma anche qua, non approfondiamo. Comunque, i sistemi sono questi, no? Quindi abbiamo SP500, Nasdaq, Oro, Crude Oil, Euro e Live Kettle, che sono i bovini, fa parte delle commodity molto diversi, che stanno molto bene insieme tra loro. Adesso andiamo a vedere nell'ultimo periodo che cosa hanno fatto. Abbiamo l'intermarket sul Live Kettle, che ultimamente sta incappando una serie di trade positivi, interessanti, tutti long, e il 2020 lo sta affrontando con un guadagno di 9.940 dollari, ecco qua un pochino più grande, e l'agosto, che è il mese che dobbiamo andare a vedere, luglio-agosto, diciamo 3.800 a luglio e 1.450 ad agosto di guadagno. Poi c'è questo guadagno aperto che sta andando molto bene. Poi abbiamo il breakout overnight, quello su oro, che praticamente ad agosto non sta lavorando, è un sistema molto particolare che approfondirete, mi auguro. Ha fatto nel 2020 8.530 dollari e ad agosto ha fatto niente, non ha fatto trade, e anche a luglio in realtà ha fatto, vabbè, 11 trade chiudendo sostanzialmente a zero. Giugno invece 3.150, eccetera, eccetera. Poi, ecco, è importante, rimanete con me perché poi alla fine vi faccio vedere cosa succede a tradarli tutti insieme. È quello il discorso del video, mi raccomando. Poi manca il reversal overnight, quello sull'SP500, molto semplice, molto bello, molto pulito. Nel 2020 ha fatto 19.337.50 dollari, sempre con un contratto, e ad agosto ha fatto 4.075 dollari. Luglio 13.387, poi giugno negativo, maggio positivo, aprile negativo, marzo positivo. Insomma, un'alternanza di mesi che però porta l'equity line a essere decisamente bella e sui nuovi picchi come al solito. Poi abbiamo il bias su euro, che è il sistema che sta soffrendo di più. Abbiamo il 2020 leggermente negativo, chi poi fa il corso capisce anche perché questo sistema esiste in questo modo, con che criteri è stato costruito, eccetera, eccetera. E nel luglio ha perso 4.000 dollari. Poi, per carità, oltre a quello è positivo nella somma. Luglio è stato molto negativo, non ha funzionato molto bene e chi è nel gruppo poi, nel gruppo privato intendo, approfondirà questo discorso, che è molto interessante sulla tenuta dei sistemi, su come farli durare più a lungo, eccetera, e su che aspettative avere sui sistemi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il reversal intraday su Nasdaq, vediamo che performance sta ottenendo. nel 2020 sta ottenendo una performance da 19.970 dollari, molto positivo ultimamente, e ad agosto ha fatto 4.000 dollari. Luglio è praticamente nulla e giugno 4.000 dollari. Insomma, il 2020 spaziale per questo sistema sul Nasdaq, ma molti sistemi sul Nasdaq si stanno comportando molto bene. E tra l'altro è difficile farlo andare intraday per l'alta volatilità, per come si muove in modo molto scoppiettante questo Nasdaq. Poi abbiamo il breakout intraday sul crude oil, molto curioso. Per tutto quello che sta succedendo sul crude oil, ha un equity line spaziale, questo è out of sample da qua, ha fatto una serie di nuovi massimi crescenti molto positivi. 2020 lo sta tenendo con un profitto di 12.820 dollari e agosto in 6.3 da perso 2.160 dollari. Luglio l'ha fatto positivo, giugno positivo, maggio positivo, aprile positivo, marzo positivo, febbraio negativo. Insomma, essere intraday per il crude oil, per questo specifico sistema, e per come ragiona, è positivo, è una cosa positiva. Ora, la cosa importante è da vedere. Ah, qua intanto sul bazfoglio vi faccio vedere le performance degli ultimi 100 giorni, così, diciamo, 4 mesi di borsa, ecco, a mercati aperti, diciamo così. Ecco qua. Questi sono i 6 sistemi. Livecattle negli ultimi 100 giorni ha guadagnato 3.700, ah, questi sono tutti i soldi, sono tutti i risultati netti delle spese, ok? Quindi il Livecattle ha guadagnato 3.720 dollari, ma ha pagato 210 dollari di spese, quindi sono già inclusi. Il crude oil ha perso 590 dollari negli ultimi 100 giorni, ma ha pagato 720 dollari di spese. Euro 6.000 con 720 dollari, Nasdaq ha guadagnato 7.000 dollari con 480 dollari di spese, SP500 ha guadagnato 32.000 dollari negli ultimi 100 giorni, pagando 450 dollari di spese, e Gold ha guadagnato 3.280 dollari con 840 dollari di spese. Quindi, come è andato negli ultimi, nel 2020, diciamo, questo portafoglio, ecco qua il risultato. Come al solito, il senso di creare trading system è di unirli tra loro, no? Uno dei 5 pilastri del trading consapevole, di cui vagheggio sempre, è proprio la diversificazione, è la cosa più importante. Quindi, quando, non so, a marzo l'SP500 andava male, avevamo Nasdaq che andava bene, avevamo, non so, crude oil che andava abbastanza bene, avevamo magari oro che era flat. Poi l'SP ha fatto i nuovi massimi e ha compensato magari la perdita di euro, insomma, uno lavora con l'altro al fine di creare un unicum, un portafoglio performante, che nel 2020 ha fatto 70.000 dollari, tutto con un contratto, per una perdita massima di 12.000 dollari e, citerei a sottolineare, 6.895 dollari tenuti come spese, ok? Quindi sono state sottratte al netto totale. Questa è la distribuzione dei mesi, febbraio è il risultato negativo, vabbè, è chiaro, ragazzi, sicuramente è una performance che non, probabilmente non verrà mantenuta in futuro, ci sono statistiche che dicono che ogni tanto i sistemi si rompono e per questo è che bisogna saperli costruire, bisogna avere un metodo per affrontare il mercato, di quello che insegni nel corso, no? Quindi questi sono sistemi forniti nel corso per insegnare il metodo, non per metterci su, non so, vendere la casa, metterci sul capitale e sperare che poi diventa ricchi, no? Non è quello il senso e se pensate che i trading system siano così avete bisogno assolutamente di imparare cosa davvero sia un trading system e in realtà di cosa sia il trading. Comunque le performance sono molto buone, vediamo quest'autunno cosa succede, se ci sarà un nuovo lockdown, se ci saranno nuovi problemi, con le elezioni anche, sarà interessante capire un pochettino come funziona tutto il resto. Spero che questo video vi sia piaciuto, per suggerimenti basta chiedere in descrizione, nei commenti di approfondire determinate tematiche, ci aggiorniamo domani sempre alle 14, qui su Buzz Trading, commenti, like, condividete, rendete Buzz Trading virale e basta. Ciao, fate i bravi!